E' stato aperto il cantiere per realizzare la rotatoria compatta all'incrocio pericoloso tra via Marconio e il sottopasso Avis all'ingresso del centro storico di Pietrasanta con qualche settimana di ritardo a causa dell'emergenza sanitaria. E' ripartito così uno degli interventi sulla viabilità più attesi che metterà finalmente ordine ad un tracciato urbano considerato ad alto rischio. La rotatoria era stata inserita fra i 52 interventi finanziati dalla regione toscana che comparteciperà al costo complessivo dell'intervento con 75.000 euro. Si tratta di uno degli incroci più pericolosi della città, spesso, purtroppo, luogo di incidenti mortali in passato e di continuo oggetto di polemiche da parte dei cittadini. La rotonda di via Avis Donatori e via Marconi è la prima di una serie di rotatori previste nel piano di opere pubbliche dell'amministrazione Giovannetti. L'obiettivo è ridurre i punti di conflitto derivanti dall'incontro di due arterie di collegamento fra il centro storico e la piana molto trafficate durante tutto l'arco della giornata, preservando l'attuale ciclopista e senza procedere a nessun esproprio. La fine dei lavori è prevista per il 9 maggio. Il cantiere, oltre a modificare la viabilità di accesso a Pietrasanta, provvisoriamente toglierà 11 posti auto dal parcheggio della Pesa, ma i disagi si prevedono contenuti, viste le restrizioni anti-covid, che andranno avanti ancora per settimane.